Alla fine di questa partita 0-0 con il Marina di Schiavonea, con il mister Lucio Vaccaro la vogliamo un attimino analizzare, mi sento di dire solo una partita un po' sottotono. Sì, in effetti è così, oggi abbiamo fatto una delle peggiori partite, sia dal punto di vista atletico, sia dal punto di vista tattico, ma soprattutto dal punto di vista della voglia, del cercare di fare il risultato, anche se la squadra ultimamente non sta bene dovuto a qualche acciacco, a qualche fuoriforma, però è normale. Poi loro sono venuti, giustamente sono venuti per portare via un bundo che alla loro classifica andava bene. Noi siamo questi, io ho sempre detto, questa è una squadra che deve maturare da questo punto di vista, riusciamo a fare partite partitissime contro avversari con un grande blasone, e poi magari facciamo una prestazione minore contro queste squadre che si chiudono bene e comunque stanno dieci persone dopo la linea della palla. Quando trovi una squadra come lo Schiavonea, che stanno dieci persone dopo la linea della palla, se non metti un po' di ritmo, se non metti un po' di voglia, se non metti un po' di fantasia la partita la pareggi e rischi di perderla, perché comunque poi loro all'ultimo minuto hanno avuto quell'occasione e che siamo stati fortunati. Forse noi dobbiamo recriminare per qualcosa nel primo quarto d'ora, appena iniziato la partita, però poi la partita diciamo che l'hanno saputa leggere bene loro, l'hanno messa sul loro binario, riuscivano a speculare su tutto, giustamente come deve fare una squadra che si deve salvare fuori casa. Potevamo dare di più, ci dobbiamo accontentare di questo punto, io ho sempre detto e ripeto che questa squadra si deve salvare, se poi qualcuno si immaginava che dopo tre vittorie potessimo fare un espoir facendo i playoff oppure dobbiamo rimanere con i piedi per terra, avere umiltà e continuare il nostro campionato.